Sindaco a Pescara è una situazione sempre più difficile, aumentano i ricoveri in ospedale, aumentano i positivi. Una situazione complicata che lei aveva percepito alcune settimane fa quando aveva chiuso per primo le scuole nella nostra regione. Ora probabilmente ci sarà la chiusura delle scuole in tutta la regione. Quando eravamo ancora in Giona Gialla, il 6 febbraio, io ho fatto l'ordinanza che era un'ordinanza molto azzardata, molto difficile perché andava oltre il DPCM sulla chiusura delle scuole, perché siamo arrivati fino alle scuole di infanzia. Sembrava un provvedimento che era azzardato, però adesso anche la regione sta ragionando su un provvedimento del genere dopo che tanti sindaci si sono adeguati, per esempio tutti i sindaci della zona costiera del Pescarese, da Montesilvano a Città Sant'Angelo a Spoltore, già hanno fatto questi provvedimenti di chiusura delle scuole e adesso la regione farà un ragionamento complessivo proprio perché abbiamo chiesto alla regione di intervenire su una materia molto delicata per evitare che ci fossero delle chiusure a macchia di leopardo che creavano solo problemi alla comunità e poi anche perché non era giusto che i sindaci si assumessero queste responsabilità nel momento in cui c'è un'espansione del contagio che riguarda territori molto ampi. La regione sembra aver recepito questa indicazione, tant'è che credo nella giornata di oggi emetterà un provvedimento che va in questa direzione, chiusura delle scuole didattiche a distanza nelle scuole, quindi sospensione della didattica in presenza, anche nelle scuole elementari e nelle scuole medie che invece sono rimaste fuori dal provvedimento del DPCM. Questo succede perché? Perché c'è la variante inglese che colpisce i giovani, che colpisce i ragazzi cosa diversa dal ceppo originario del coronavirus che invece colpiva le persone più anziane. Adesso c'è una percentuale di circa il 20% di giovani da 0 a 20 anni colpiti ovviamente in termini assoluti rispetto ai contagiati.